Un post su Facebook che ha letto oggi diventa atroce. Tiziana Mangano che ricorda la morte della cugina Lorena ad un mese della sua scomparsa in un incidente mortale a Messina. Una foto in cui entrambe sorridono. Adesso anche il sorriso di Tiziana è stato strappato da appena 30 anni. Anche stavolta è stata la strada a reciderlo. La giovane originale di Capodorlando, ma residente a Milano, è morta ieri pomeriggio, qualche ora dopo il terribile incidente a Rogoredo finendo con l'auto contro il guardrail. Tiziana, dipendente di un negozio di elettronica, alle 14 stava percorrendo il raccordo autostradale all'altezza di Rogoredo. Tiziana ha perso il controllo della sua 500 ed è finita contro il guardrail. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata in fin di vita all'Humanitas è morta quasi subito. Secondo alcune testimonianze, la trentenna avrebbe perso all'improvviso il controllo del mezzo dopo aver percorso una curva a circa 200 metri da piazza Mistral. Da accertare anche le condizioni del guardrail nel punto di impatto con la 500. In particolare gli inquirenti vogliono capire se le sbarre trasversali e la struttura principale fossero regolarmente agganciate e se tutto fosse a norma di legge. Ovviamente lascia scoinvolti la terribile coincidenza che Tiziana fosse cugina di primo grado con Lorena Mangano, morta a fine giugno in un incidente avvenuto a Messina. Un impatto, quello, provocato da una folle gara tra due automobilisti che ha finito per coinvolgere alla giovane di Capodorlando che stava regolarmente attraversando un incrocio.